La primavera è arrivata, i primi raggi di sole riscaldano il terreno, il profumo di fiori inebri alle città ed ecco un esemplare di micolfemmina uscire dall'etargo invernale. Sono mesi che questo splendido esemplare non mette il naso fuori dalle mura di casa, ma ora è finalmente pronta a risplendere di luce propria. Ma eccola la vera protagonista della primavera, il capo che sta bene su tutto, il capo che risolve ogni situazione, il capo dei capi, la giacca di pelle. Ma ora è giunto il momento di alzare le chiappe e prepararsi alla prova costume e recuperare i rapporti sociali lasciati in sospeso durante l'inverno. Ciao Franci, come stai? No, bene, tutto a posto, sto facendo un po' di attività fisica, senti, so che non ci vediamo da l'inverno scorso, però ecco volevo chiederti, ti vado a uscire stasera? Prova costume? Non ti temo, Mikol sta arrivando! Oddio! Oh, c'è il tapirulano! il minore! Wow! Quattro, questo nezzetelo! Patry! Ehi! Come stai? Tutto bene. Quattro, ma questo piumino? E questo fa freddo? Ma che primavera fa freddo? Ti stai preparando per la prova costume? Andiamo a correre insieme? No, 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 Ma cosa ci fai invece con la giocca di pelle se si è andata a correre al parco? No, ma la giocca di pelle in primavera è d'obbligo e comunque io me ne vado perché sono già di tardo e mi raccomando la propria costume, ricordati! C'è da dire però che non tutta la fauna reagisce bene al cambio stagione. Questo esemplare di Patrizia, ad esempio, soffre particolarmente gli sbalzi climatici e prova a difendersi dalle mezze stagioni grazie a un equipaggiamento a cipolla. Perché si sa dove c'è sole ci si squaglia e dove c'è ombra ci si gela. Ma nonostante abbia resistito fino a maggio inoltrato, anche per lei è arrivato il momento del cambio stagione. Ragazzi, un anno passere in fretta e torneremo a vivere insieme. Tu mi mancherai, ma soprattutto tu mi mancherai. Ma tranquilli, non vi farò finire in cantina, non vi farò buffire. Allora, questa verde. Questo è bellissimo. Un costume, ma questa notte chi ti vede? Pulizia di primavera. E tu? Ma Birichino, ma chi ci fai qui? Andiamo di ammettere a posto. Questa non non servi. Quindi vai a finire qui su. Che bello, io me ne vado a studiare. Non scontro. Prova. Non mi devo finire. Prova. L'estate piccina. Indossa. 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 Ok, ok, hai vinto tu